Sebbene il sottosegretario abruzzese Gianluca Vacca al MIBACT, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, assicuri che i fondi per gli enti culturali saranno ripristinati nell'arco dell'anno, c'è agitazione e scetticismo tra gli operatori per la mannaia che si è abbattuta a metà estate sugli enti culturali con i tagli degli stanziamenti del FUS, il fondo unico per lo spettacolo. Circa 400.000 euro infatti in meno alle istituzioni aquilane come Solisti Aquilani, Società dei Concerti, Teatro Stabile d'Abruzzo e ISA. E' proprio l'istituzione sinfonica abruzzese la più colpita, con un taglio di 100.000 euro circa. Esprime i suoi dubbi su questa scelta proprio Giorgio Paravano, il segretario generale dell'ISA, che sottolinea una disparità di trattamento nella stessa regione Abruzzo tra gli enti culturali. Il Mibact, cioè il Ministero, attraverso le sue commissioni ha deciso di tagliare fondi all'istituzione sinfonica, al Teatro Stabile, alla Società Aquilana dei Concerti, ai Solisti Aquilani, mentre ad altre realtà regionali questo non è accaduto. Perché secondo una lettura distorta l'Aquila ha goduto di privilegi per chi ha avuto il terremoto. Il privilegio tra virgolette di avere una moratoria, cioè di avere garantito alcuni fondi, proprio per poter ripartire. Noi non abbiamo ancora il teatro, noi siamo qui a fianco al teatro comunale che è ancora un cantiere aperto. L'auditorium della Guardia di Finanza non è agibile. Tra l'altro hanno dimenticato questi signori governanti che nel 2016 e 2017 ci sono stati altri due terremoti. Noi avevamo una stagione a Teramo e la gente viene di meno ai concerti. Noi sul punteggio qualitativo, sulla qualità del prodotto abbiamo raggiunto un punteggio quasi massimo rispetto alle altre orchestre italiane. Ci hanno voluto penalizzare perché il pubblico viene di meno. Il pubblico, per esempio, a Teramo veniva molto di meno, evidentemente, perché all'indomani del terremoto andare in centri di aggregazione dove più persone si incontrano metteva paura. Questo non solo non è stato compreso, ma è stato un elemento punitivo. Nei confronti dei nostri enti. È stata una scelta operata con determinazione di voler punire in maniera scientifica alcuni enti che hanno dato anche molto a questa città. Io mi auguro che la governance politica, insieme alla nostra, sia in grado di dare una risposta a questi signori. Noi abbiamo già interessato l'onorevole Deramo, la senatrice Pezzopane, il sindaco dell'Aquila. Io mi auguro diventi capofila di una giusta protesta, di una giusta rivendicazione perché a noi si restituisca il mal tolto. Io mi auguro. Io mi auguro. Io mi auguro.